Abbiamo un nuovo presidente del CDA, ma abbiamo anche un nuovo presidente della nascente fondazione per il credito cooperativo della Valdinievole. Allora cominciamo da Valentino Pieri, che diventa a tutti gli effetti il presidente della fondazione. Se ci vuoi spiegare un po' cosa farà. Dunque, la nostra banca è sempre stata una banca in evoluzione. Abbiamo cercato sempre, cercheremo sempre, le opportunità importanti per Montecatini e per il territorio. Al momento che si è verificata questa opportunità importante dell'Accademia Dino Scarabrino, come avrete già sentito dai giornali, abbiamo creato appositamente una fondazione il 28 marzo, Fondazione Banca di Credito Valdinievole, che darà una risposta forte in un momento critico al territorio. Credo che Montecatini abbia bisogno in un momento di crisi di una svolta e noi come banca, presente sempre sul territorio, credo che con questa grossa opportunità veramente daremo una nuova, grossa opportunità per la città e per Montecatini e per tutta la Valdinievole. Nel contesto per la continuità della banca, abbiamo individuato in Alessandro Belloni, la continuità della banca, Belloni è sempre stato presente, era nel collegio sindacale come presidente, e credo che saprà meglio di me, forse meglio degli altri, perché ha vissuto insieme a me e a tutti i consigliari questa esperienza, a portare ancora avanti la banca del credito cooperativo in un territorio molto più ampio che quello che abbiamo acquisito con l'acquisizione di Bientina. Allora, ringraziamo Valentino, passiamo ad Alessandro. Alessandro, credo che per te sia una doppia soddisfazione, diciamo dal punto di vista lavorativo, ma anche il fatto che sei un figlio di questa terra, per te è veramente una bella giornata. Certo, è un grosso onore per me essere chiamato a questo incarico, professionalmente, ma soprattutto, come hai detto te, da Montecatinese. So che non sarà facile, è un impegno gravoso, la banca con la recente fusione con la banca di Bientina ha allargato i propri territori, i propri spazi, il momento e la congiuntura economica non sono semplici, per cui il mio compito sarà quello comunque di cercare di proseguire quello che è stato il lavoro di chi mi ha preceduto, e quindi del Presidente Pieri, che ha fatto in nove anni tante cose importanti per la banca, dalla costruzione della nuova sede alla fusione con la banca di Bientina e al raggiungimento di obiettivi importanti, tant'è che oggi siamo la terza banca del movimento in Toscana e quindi l'impegno è gravoso, oneroso, però cercherò di affrontarlo con tutto l'impegno e l'umiltà possibile, sicuramente continuando ad avvelermi di una struttura che da sempre fa bene e di un Consiglio di amministrazione al quale ho chiesto di affiancarmi e di sostenermi e supportarmi in questo mandato. Senti, ancora una domanda Alessandro, c'è un'imprenditoria che ha forti richieste anche di aiuto, semplificazione, cercare di non avere troppa burocrazia, voi vi siete sempre distinte per una certa facilità di accesso al credito e anche di operazioni piuttosto semplificate, proprio per la piccola imprenditoria. Cosa pensi che potrete offrire a un'imprenditoria che in questo momento ha il fiato un po' corto? Quello che abbiamo sempre fatto, cioè essere una banca tra la gente, il vantaggio della nostra banca è quello di avere il contatto diretto con il cliente, con il nostro socio, con chi si avvicina a noi per i propri problemi, per le proprie esigenze, per le proprie aziende. Quindi quello che noi continueremo a fare è esserli accanto, il momento come ho detto non è facile perché la situazione è sotto gli occhi di tutti, però noi vogliamo essere sempre lì, essere vicini, presenti con la nostra cortesia, disponibilità nel recepire problemi, naturalmente valutandoli uno per uno affinché la gente comunque veda nella banca della Val di Nievole sempre un punto di riferimento vicino alle persone, alle aziende e ai nostri soci. Concludiamo con un'altra domanda a Valentino. È una cosa molto interessante questa della fondazione perché probabilmente avete colto l'importanza che può avere la cultura come vogliano del turismo per una terra come la nostra che è ricca veramente di opportunità. È veramente importante, importante per Montecatini e importante per la banca. Come hai detto prima, siccome siamo la banca del territorio, sul territorio ci siamo e ci vogliamo essere, ma non solo come banca ma anche come cultura e riportare a Montecatini quello splendore che era l'Accademia d'Arte, non solo con le opere d'arte ma con convegni mirati interessanti che diano visibilità non solo a Montecatini ma alla banca e a tutti i nostri cittadini. Allora, ultima domanda per Alessandro. Tu sei stato sportivo e volete seguire lo sport con continuità. Avete sempre fatto tante cose. Qui c'è un grande fervore nel basket ma anche in tanti altri sport. Noi siamo da sei mesi, otto mesi a questa parte, siamo la banca di un territorio molto più ampio. Quindi da sempre il Credito Valdinievole è stato un punto importante di supporto per tutte le attività sportive della zona. Oggi dobbiamo guardare più lontano, quindi dobbiamo essere attenti e percepire queste necessità anche sul nostro territorio di competenza che appunto non si basa più sulla Valdinievole ma si basa anche su territori più ampi e diversi. Ma comunque saremo sempre lì, cercheremo per quanto possibile di sostenere e di sviluppare e dare il nostro sostegno alle attività sportive però in un territorio molto grande, molto ampio. Ma anche qui per quanto sarà possibile quelle che saranno le nostre possibilità sicuramente faremo il nostro dovere. Scusa, un altro ultimo accenno. Ho visto che nel Consiglio ci sarà alla Vicepresidenza proprio una persona del territorio che avete acquisito negli ultimi tempi. Anche questo è un segnale di continuità col territorio. Certo, noi abbiamo voluto e comunque era un accordo anche della fusione che è un Vicepresidente e tre consiglieri del CDA sarebbero state espressioni del territorio della banca ex Bientina. È una cosa importante. Noi uno dei primi impegni che avremo come CDA è andare su quel territorio, farsi conoscere, parlare con le persone, con la gente, con i clienti, con i soci per capire le problematiche, per far capire che noi ci siamo, siamo presenti, ricepire i loro messaggi e insieme cercare di far parte veramente in maniera sinergica di questa banca perché è una banca che ha le possibilità di crescere ancora ma soprattutto di essere vicina ai propri soci e ai propri clienti. Ringraziamo Alessandro Belloni e Valentino Pieri e speriamo che veramente questo sia nel segno della continuità comunque anche un nuovo inizio.